Salve ragazzi, ci siamo quasi, pre-partita di Juventus e Real Madrid, speriamo di farcela, ma non è facile, non è facile. Allora ho visto ieri comunque che Cristiano Ronaldo ha avuto qualche problema alla schiena e ho visto che si è proprio steso sul campo dello Juventus Stadium a farsi massaggiare potrebbe essere una buona cosa che la Juve dovrebbe sfruttare, dato che Ronaldo non è in forma bene, però è recuperato. Non ci sarà Benzema e non ci sarà Modric. Allora la Juve dovrebbe fare il 4-3-1-2, difesa 4, perché contro il Real se non fai la difesa 4 probabilmente perdi, con Buffon, Lixstani, Archiellini, Evra, Vidal, Pirlo, Marchisio, Pereira, Tevez e Morata. Dovrebbe essere questa la formazione della Juve. E a disposizione Allegria, Storari, Barzai, Padoin, Sturaro, Comane, Llorente e Matri. Il Real Madrid invece fa un 4-4-2 con Castillas, Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo, Ames, Sergio Ramos, Kroos, Isco, Bale e Ronaldo. Sinceramente non mi sembra una scelta giusta di Ancelotti far giocare Sergio Ramos a centro campo. Sinceramente è la prima volta che vedo una cosa del genere, ma non mi sembra la scelta giusta. E a disposizione il Real Madrid da Kroos, ah scusate, Navas, Arbeloa, Coentrao, Chedira, Iaramendi, Hernandez e Eze Rodriguez. Kroos gioca quindi a disposizione per forza. Allora, esattamente 2015-2002, 13 anni fa la Juve supera l'Inter all'ultima di campionato e vince lo Scudetto. Perché oggi vi ricorderete che è il 5 maggio, no? E 13 anni fa io ero molto 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 piccolo. E 13 anni fa avevo 7 anni e la Juve aveva superato l'Inter all'ultima giornata vincendo un campionato che era praticamente perso. Me lo ricordo quell'anno anche se ero molto piccolo perché è stata una bella soddisfazione. Comunque ragazzi c'è poco da dire, stasera la Juve deve vincere con più di un gol di scarto e se no rischia di prendere un'imbarcata e di andare fuori stasera. Deve cercare di giocare bene e deve cercare di non far partire sulla destra Ronaldo e sulla sinistra Bale. Perché altrimenti è finita. Se Bale parte Chiellini può dare una stecca, Vidani può dare una stecca, però dopo presa l'ammunizione non possono più fare niente. Quindi dobbiamo cercare di stare molto attenti perché i ragazzi sono i campioni d'Europa. Basta, punto, basta dire questo. E quindi ci rivediamo stasera, speriamo bene e forza Juve. Ciao!